Paura nell'area residenziale della Celletta di Pesaro, dove questa mattina, poco dopo le 11, un incendio ha devastato un appartamento al piano terra di un condominio di via Rossellini non lontano dall'intersezione con via del Novecento. Per cause ancora al vaglio delle indagini dei vigili del fuoco, le fiamme si sono sprigionate dall'interno dell'abitazione del Civico 2, sollevando una nuvola di fumo che ha creato apprensione in tutto il complesso residenziale. Gli occupanti delle condominio si sono riversati in strada e subito è stato dato l'allerta ai vigili del fuoco, pompieri intervenuti con quattro mezzi per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area che ha richiesto anche la chiusura temporanea del transito alla strada. Sul posto anche carabinieri e polizia locale per gli accertamenti, così come il 118 in via precauzionale per un incendio che non ha registrato ferito o intossicati. L'unica residente dell'abitazione non era presente nell'appartamento incendiato ed è rincasata in fretta e furia in apprensione per i dieci gatti di cui si prende cura e che gravitavano all'interno della casa in fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo tutti i felini con alcuni vicini di casa che si sono rimboccati le maniche prestando trasportini che mettessero in sicurezza i gatti. Le operazioni di smassamento del rogo sono continuate anche nel pomeriggio con la dichiarazione di inagibilità dell'appartamento incendiato e le verifiche per un'analoga evacuazione dell'appartamento sovrastante.